ciao a tutti e bentornati come una volta su indie gameplay ita episodio numero 5 della miniserie su x4 foundations allora ci eravamo lasciati con la doganiera che abbiamo deciso di diciamo comportarci bene con lei abbiamo visto la doppia scelta e ci siamo ritrovati di fronte a questo asteroide degli yaki nave che diciamo base che sembra abbandonata gli yaki mi sono informato una cellula criminale dei pionieri di segaris se c'è una cosa che devo dire questo gioco in questo gioco la narrazione veramente fatta male malissimo comunque andiamo in modalità scansione e vediamo un attimino se c'è qualcosa che possiamo fare all'interno di da lì non si può entrare già dato un'occhiata veloce ma non si può dovremmo trovare forse un segnale un qualcosa sulla base un base fatto veramente bene eccolo già lì che culo allora diamo un'occhiata andiamo un'occhiata questa scansione appena ci avviciniamo ci fermiamo sei interessato in un lavoro devo portare via della merce ritenuta illegale da questa stazione ma di recente la sicurezza sta setacciando il traffico con molta insistenza tuttavia lo scanner non servono niente senza un sistema centrale che gestisca e questo può essere naturalizzato un giusto equipaggiamento se salissi sulle stazioni disabilitasse il sistema e potrei muovere con molto meno rischio ma mi danno mezzo milione no io onestamente non sono sicuro di dover fare questa cosa per per loro perché devo farlo perché magari poi mi danno retta ma lì me la segna come questo ma in realtà resta comunque una base abbandonata quindi dovrei cercare di capire piuttosto come entrare in questa base se c'è una zona di atterraggio o meno quindi sappiamo che dentro c'è qualcuno perché ci hanno proposto questa missione e un'altra cosa dicevo della narrazione che non si capisce se devo far sta roba o no cioè questa missione qui la devo fare o non la devo fare perché accettare una cosa così e a creare un sistema anche lì il gioco è difficile perché non mi dice se lo potete fare o meno cioè magari voi accettate la questa e poi vi chiede un equipaggiamento da hacking che è di livello avanzato anche perché comunque la missione che vi dà vi dà comunque mezzo milione di crediti quindi non lo so non so adesso diamo un'occhiata all'asteroide e vediamo un attimino se riusciamo a capire come entrarci perché credo ci sia un'entrata da qualche parte in questo asteroide perché una volta che poi avete qualche ora con la serie di x inizierete un po capire che la trama è proprio raccontata male cioè per quanto sia bella raccontata male nel senso che poi voi vi domandate ma cosa c'entra che io sto cercando un'entrata per scovare sti tizi e mi danno un'entrata e mi danno mi danno scusate è che l'entrata è lì tra l'altro mi sa e mi danno una missione e a quel punto sarete più smaliziati una volta che avrete esperienza e inizierete a capire che in effetti non c'entra nulla magari vi metterate a fare quella missione lì e senza sapere esattamente cosa fare ci passiamo vediamo vediamo se ci passiamo perché splendidamente la nave mi sembra solo molto più grande quando la pilotiamo diamo un'occhiata posso sentire questo posto che mi osserva suggerisco di concludere la nostra indagine in maniera più efficace e rapida possibile e ovviamente se qua moriamo ricarichiamo e riproviamo comunque sappiamo che c'è qualcuno all'interno perché comunque ci hanno contattato e ci hanno dato questa quest con cui potremmo farci amici anche gli yaki e ci penseremo qualcuno di voi poi me l'aveva detto nei video precedenti quindi che spettacolo sono tutte cose che senza una storyline non potreste mai vedere mi chiedo anche se questo satellite fosse lì anche senza la storyline o meno vediamo tanto qua piloto non mi piace quello che vedo c'è una torretta che spara e mi sta abbattendo il lo scudo vediamo se riesco ad abbatterla prima io ok andiamo boom la kamikazata come la chiamate voi c'è abbiamo opa vediamo ancora quel fastidioso quella fastidiosa torretta ok non è più un problema dobbiamo prendere questo cosa si chiama cariceto litigioso cioè abbiamo qua dentro un'altra nave come questa ma andiamo andiamo a vedere subito questa nave abbandonata che succede devo reclamare il cariceto e come faccio a reclamarla ma oddio non dovevo scendere non dovevo scendere lo sapevo io che non dovevo scendere fatemi risalire subito su sta nave e vediamo adesso cosa succede perché vedo che c'è ancora una torretta qua ok vediamo ma la torretta che c'è fuori no no dove caspita è sta torretta mi sa che è quella che abbiamo lasciato di fuori ok niente niente dobbiamo reclamare questa nave vediamo segna come ostile assistenza a velocità nome cariceto litigioso no non riusciamo a entrarci vabbè intanto mettiamoci qua vicino vicino in modo da in caso tornare subito qui ok andiamo a reclamarla perché reclamarla io non ho idea di come fare nel senso che non mi dà interazione non mi dà neanche reclama nessun membro dell'equipaggio a bordo per reclamare questa nave eh infatti come faccio vabbè vado a a scansionarla ma si c'è lì un'antenna andiamo fermati ma che cacchio stai facendo sono sicuro di piacerebbe familiarizzare con controlli questa intelligente nave ma tutto a tempo debito posso suggerire prima cosa incrementare il grado di abbandono in questo oribile posto per diversi fattori di risoluzione cioè lascia la base niente dobbiamo andarcene allora è evidente mamma mia quando hai fretta il circolare con questa con questa nave qua con questa tutta spaziale è veramente un dramma ma dove cacchio vado adesso ok ok dai dentro lì ok dobbiamo andarcene perché dobbiamo andarcene sì ma come ce ne andiamo da qua dai tubi di scarico non ho capito perché non ho sentito c'erano voci sotto probabilmente è arrivata qualche altra qualche altra nave e e e quindi dobbiamo farci trovare fuori il primo possibile è arrivato qualcuno questa è l'Osaka non è la Tokyo quindi lascia la base e l'ho lasciata vedete che è arrivata un sacco di gente siamo andati via c'era dentro una nave ma consegna la nave gli acchi beh non sono riuscito a salirci a bordo scusate ma questa qua è la nave degli acchi e va bene ci sta ora posso consegnarle ai servizi segreti o al mio socio ma quindi io non avevo un altro pilota quindi per forza io ho dovuto ma posso rientrare e prendermela quella nave cioè adesso voglio dare un'occhiata perché quella nave lì mi interessava prenderla cioè io ho già questa non è che devo consegnare a questa cioè questa qua adesso me la dà come nave mia infatti è una nave mia e come faccio io a pilotarla posso dare l'ordine a un membro dell'equipaggio solo che non ho membri dell'equipaggio quindi dovrei vabbè me la conta come nave mia quindi usiamo un'altra tecnica che è quella di andare su ahia andare su una stazione prenderci un membro un pilota insomma quello che è mandarlo lì fargli prendere la nave e portarla anziché i servizi segreti la portiamo nella nostra base dato che comunque il nostro Boron è stato legittimato che cacchio devo andare a sol oppure andare via e tornare no io non voglio andare là non voglio andare a solo io voglio andare a casa allora intanto facciamo così prendiamo una nave carina la missione anche se si poteva fare di più andiamo sull'incrociatore e prendo qualcuno cerchiamo un membro del personale in modo da mandare quella nave aia dai ok 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 cerchiamo qualche qualcuno eccola lì lei 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 che è così di fretta mi dica che non è una cima a guidare no non possiamo assumerla mannaggia no devo proprio andare su una stazione allora niente partiamo andiamo su una stazione la prima che troviamo e vediamo se questa tattica funziona perché io non voglio consegnare a questa nave i servizi segreti nella maniera più assoluta andiamo in quella in quella quella stazione lì che poi non si capisce se io mi fermerei perché sono andato un po' lungo ok andiamo medical supply ok teriamo ah lì sotto bella sta stazione l'hanno fatto tempo fa un contest dove si vincevano codici per un prossimo DLC quindi immagino ne faranno un altro di un contest di fotografico di chi mandava e video chi mandava la base più più bella ha fatto delle cose mostruose andiamo un po' indietro ok eccolo lì lo vedo dall'altra parte della sala secondo me tra loro si cela un pilota uno di voi dovrebbe venire con me in tempi brevi tipo lei perché non mi parla minchia non sono mica andato dalla Repubblica di Antigone oh questo è un protettore a tutta la resta ma non si fa assumere mannaggia è un capitano questo lei neanche mannaggia mannaggia dove cacchio lo trovo io adesso un altro che posso assumere facciamo un giro adesso un attimo che vediamo se questo tizio qua sembra un ingegnere assumi 11.000 bravo in ingegneria bravo ma ti insegno io lavora per me dovresti lavorare per me qua dovresti lavorare non mi puoi lavorare come capitano no perché 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 non sei un pilota ok ma io mi domando adesso se io ho questa nave qua la posso guidare da lontano dato che ho un'intelligenza intelligenza artificiale a meno che non ho cannato io no ma cricetto litigioso vuole a tendi non è un pilota infatti ma scusa fatemi vedere perché su questo gioco non si smetterà di imparare allora non qui ma lì il cricetto litigioso tac no 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 non può essere un capitano vabbè cerchiamo di trovare qualcun'altra anzi proviamo un'altra cosa invece se io contattassi una delle mie navi tipo questa che sta facendo esplorazione lo contattassi e gli dicessi lavora per me da qualche altra parte e gli dicessi di venire a lavorare sul cricetto voglioso lì cosa direbbe no non può proprio guidare non può proprio guidare niente dobbiamo trovare un modo di andare là così quindi ormai il fulcro di questo episodio è quello di andare a recuperare quella nave ma non voglio assolutamente abbandonare questa perché questa è una nave bellissima no lascia stare il container ignora allora non si può quindi adesso andiamo e vediamo che cosa riusciamo a fare che probabilmente quelle navi sono navi che posso guidare solo io immagino però mi suona proprio strano vediamo un'occhiata poi magari attendo anche un vostro un vostro parere perché allora può dire come fare perché non ho proprio idea io adesso abbandonerò la mia nave qua entro prendo l'altra ed esco e la porto nella stazione ma in qualche modo torno qui sempre che riesco a trovare ancora quella quel condotto da cui sono entrato da cui sono uscito rientrato riuscito eccolo lì subito qua così ok stop tutta spaziale vai e andiamo che poi rivendica bastava andargli vicino adesso intanto vediamo proviamo a salire ormai la serie qua non vuole spoilerare il meno possibile quindi è anche possibile che questo sia l'ultimo episodio e volendo spoilerare poco si va insieme a vedere quelle che sono le meccaniche delle missioni quali sono i problemi di X4 e soprattutto come affrontare i problemi siamo già riusciti a capire come non farci traviare dalle missioni fittizie del gioco e ora vediamo come risolvere questo problema della nave che poi a me piace risolverli questi problemi però scusamo questo raggio qui mi sta uccidendo no non credo però mi spinge dentro no non mi spinge dentro intanto siamo arrivati credibile come sia tutto enorme visto dal nostro pod richiedi permesso di attacco ok ora entriamo nella nave devo frenarmi perché è un po' troppo veloce ok allora la nave è uguale a prima però adesso voglio uscire e dare un'occhiata a quello che è l'accelerazione perché la nave mi sembra uguale a quella di prima sullo stesso stile a parte che gli ho dato una botta pazzesca ok quando succede questo dove vi 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 manda a quel paese nel senso che vi fa compenetrare e non vi fa più arrivare nel nel tunnel insomma dove dovevate andare anziché star qua e distruggervi nel nulla la cosa che ho visto che dovete fare da parte che adesso forse siamo tornati dentro siamo riusciti a uscire no ci sono ancora tutti i problemi del mondo vediamo magari riusciamo a uscire ok no ce la dovremmo aver fatta la tecnica è quella di salvare la partita la partita in automatico va a riposizionare la vostra nave diciamo in un percorso agibile comunque questa è la vecchia nave vediamo l'accelerazione di questa non è male diamo un'occhiata anche all'accelerazione massima e vediamo quanto lontano riesce ad andare dopodiché proviamo a recuperare la nave dovrebbe arrivare a 6.000 vediamo se una la copia dell'altra perché non sarebbe male questa nave portarla a destinazione vediamo vediamo credo che che sia più o meno no va giusto un filino meno dell'altra comunque comunque ora siamo totalmente questo è il gufo geometrico della nave di prima che dobbiamo portare in salvo come l'antico vaso prendo il tizio che è qui ci ho mandato a riprendere la mia castel allora lavora per me da qualche altra parte e devi lavorare dove mi trovo ora o adesso possibilmente sulla mia nave siamo lontanissimi ci metteremo una vita però la nave questa è senza pilota recluta capitano lì devi lavorare come capitano assegna perfetto lui ora sta abbandonando la nave e sta andando a pilotare il gufo geometrico quindi abbiamo due navi ora ne prenderà possesso e ce la porterà in salvo ora dobbiamo capire dove andare beh in questo caso il diciamo che il dubbio sarà la consegniamo ai servizi o no beh allora quello che farò adesso è questa cosa qui prendo la nave la gufo geometrico quella che ho fatto recuperare dal mio pilota che non so adesso se ci metterà un po' ad arrivare comunque il compito sarà quello di portarla qui quindi volare attendi io a mia volta arriverò anch'io qui dopodiché ci scambieremo la nave quindi io salirò sulla nave sulla sua gli dirò vai a lavorare da un'altra parte lo rimando dall'altra parte lo mando giù e almeno la consegniamo lì bene ragazzi questo era un episodio un po' strano un po' particolare perché abbiamo visto com'è l'interno dell'asteroide con bug non bug con le incognite che x4 come tutta la serie x da fatemi sapere che cosa ne pensate e se volete altri gameplay insomma ormai credo che la serie diciamo un po' atipica si sia conclusa nel senso che ormai sul canale potete trovare video di come iniziare la carriera mineraria video di come mettere un business tutta la parte pallosissima economica che a me piace più di questa in realtà più una parte di questa quindi insomma ce n'è un po' per tutti i gusti però dipende poi di voi se siete mai sazi di questo genere di giochi alla prossima ragazzi vi saluto e ciao ciao grazie a tutti